ed eccoci qua ed un nuovo gameplay come cattone a caccia di lama in 85 già i morti non si sa le stragi si fanno questi pazzi prima di atterrare saremo già in 50 comunque con ottime possibilità di vincere la partita ora andiamo a vedere se c'è qualcosa in queste casse sicuramente c'è gente lì la vedo no materiali 30 se rompe niente d'acca pure sta attenti la pialla è bene se c'è tipo così bene così no no si può passare qui così così sì eccolo 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 no non ci si viene proviamo così signori proviamo così vediamo questa ma no aspetta posso fare il mago della costruzione in questo modo come faccio a saltare la sopra è impossibile potrei modificare anche questa in si fatto modo così così quasi ci stavo mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia ecco qua si è pagato una scuola sotto il muro o mano per i no non cadere roba non cadere fermo non cadere tu grandissimo la canata pesca giacello grazie io ho visto che scappa cosa l'ho visto dai niente vabbè andiamo così andiamo su su quell'altro andiamo intanto siamo vicini alla safe poi torniamo indietro perché la sua era ancora più vicino però va bene non facciamo troppi progetti per il futuro futuro che probabilmente non c'è quindi neanche a parlarne no no ah si si a merito il bazooka no scendiamo piano ah 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 edificente niente trappola ancora per il cartone ma niente scudi tutti e altro per il cartone così perfetto vai adesso scudo che magari qualcuno che tanto è uguale è che 50 di scudi che salvano perché qui ci vorrebbe la sovraintendenza per salvarci scusa quello che voglio dire che io questo scudo 50 se faccio una serie allora mettiamo se così così vende ok perfetto andiamo a vedere quella cassa cassa ma una trappoletta per cartone ma che faccio ma minnaggia guarda che palla sempre queste indecisioni ammoletiche bisogna un smartphone ma io voglio annaccio di due cari ma più che altro di materiali non so so Grazie a tutti. Andiamo, andiamo! Andiamo in safe. Rimango coperto, ma fa l'inserzo. Ah, un lama! Mentre andiamo in safe, sarebbe gradito. In sostituzione accetterei anche due trappole buttate in mezzo così. Grazie. Mi pare che lagga. Questa ancora non è safe. E non vedo lama. Asso nella cassa. Qui c'è una cosa per potenziare i bambini. Chi è? Un fottuto bot? Lo aspettiamo al passo? Oh, oh. Oh, ragazzi, è imbarazzante. Che pensate, che erano bot questi? No, questi sono giocatori normali. E non mi hanno lasciato un cazzo. Perché mi hanno lasciato? Dite, ma voi, le munizioni per bazooka non me le ha lasciate. C'è un po' di lutte qui da via ancora, no? Niente, però, cioè... Mi ha sentito mezzo mondo, perché... Quelli si stavano due botte che si correvano appresso, no? Uno sparava quell'altro, ma che... Ma che è diventato sto gioco? Che è diventato questo gioco? Guarda quanto lo ha messo lontano. Io ho noto, vado. Ah, sto controcorrente, non ce lo sa no. Cioè, perché quei botte si sparavano in quel modo maldestro? Intelligenza artificiale. Ma perché lagga? Vedi che lagga? Ma dov'è il mio lama? Niente, proprio non... Io, boh... Ma dall'altra parte, guarda. Questa non ho visto, ma come funziona. La mira è buona, però, via. Alla fine, la mira è buona. Poi arriva quello cattivo, e ciò lo butta al cuore. Quello è uno? No. Ma, poi si capisce, sì. C'è il suo pesce, il suo cristiano. Ma anche nella vita reale succede questo, eh? A volte. Il mio pesce è un cristiano. Ancora giù, il suo cristiano, no? No, non mi lasciano perdere. Dai, dammi letta, che sono cattivo. No, c'è, c'è. Mannaggia, no, mi sparano sicuro. Ma quella è un bot, eh, comunque. Nessuno, un essere umano, costruirebbe in quel modo. Quindi, in modo, dovrebbe uscire qui dal ponte, diritto, diritto, tranquillo, senza guardarsi intorno. Tutto forte, raga. Ma ha ferito? non c'è a cazzo sono sempre lì 3 kill e niente come se non avessi ruttato più che c'è niente c'è Kino che però c'è il bazooka se incontra un giocatore vero mi ammazza io ve lo dico finché so bot posso regge botta finché so botte reggo botta quello che non l'amo no perchè sto a camminare così alto non mai camminare altro ragazzi pericolosissimo se qualcuno lo mai vede a me mi uccidono quanti siamo? 19 prestissimo per fare gli eroi li stanno a fightaggia magari potessi evitare ma un po' del povero non succede la società è una sparacchia e non si fa mi cazzo nostra alla grande proprio ma sul culo di legna il botta è cagano legna potrei andare dietro a quello e incularlo anche no pure perchè con la nata lo vedete? lo è un botto così lo vedete? è chiaramente un botto lo vedete? uno dei muro costruisce un muro guardate li so uno dei muro costruisce un altro l'ho devolutà amica ma è niente ecco non ho visto che paura ho dov'è cazzo? dov'è cazzo? dov'è cazzo? ecco bravo ragazzo stasso vogliamo 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 Baa! Baa! Cazzo! Ma quello d'altro è morto? Cazzo! Eccolo! È un po'LOCA! Eccolo solo, ho scontato quella alzatante delle sceglie! Non c'è nulla! Eccolo! mamma mia che cazzate che faccio senti ho lasciato il bazooka ho lasciato tutto ti ho rimediato un po' di armi perfetto era proprio quello che mi chiedevo mi è sbagliato li dovevo costruire non dovevo costruire no, uno per tonalità però dietro questo è un matto no, uno per tonalità no, uno per tonalità non dovevo costruire no, uno per tonalità non dovevo costruire no, uno per tonalità no, uno per tonalità quanti siamo? quattro, quattro sono troppi ancora non dovevo fare l'errore la marca è quello ammazzato che sembra cattivissimo forse non troppo poi trappole ce l'avremo si non dovevo costruire non dovevo costruire questo è il metallo no un po' ancora lavorare fino a farlo qui sto abbastanza bene ma ti c'è 3 quindi matta quel bastardo lì però potrebbe non sapere che sono qui e poi un altro che in senso abbassato non so che dovrò muovere forse sta là dentro come dita il bastardo questo è cattivo ragazzi mi dispiace ma non credo che riusciremo a fotterlo no come cazzo hai fatto? sei un prof è un profetto Poguervo. che palle, brah si è fatta venire fuori cazzo è nato no e al cantono conquista l'ennesima vittoria senza lode ne frode vediamo un po sette eliminazioni credo sia il nuovo record signori e se la balla non